Più di 100 contagio in 24 ore per un totale di oltre 1.300 casi nel sagno, mentre resta stabile il dato dei ricoveri al Sampio, 92 anche oggi il numero dei pazienti nei reparti covid dell'ospedale, dove ci sono stati anche tre nuove dimissioni e fortunatamente nessun decesso, ma l'attenzione resta alta e da domani entreranno in vigore le nuove misure varate dal sindaco Clemente Mastella per limitare la possibilità di assembramenti nelle strade e nelle piazze cittadine. Stop al passeggio lungo Corso Garibaldi e in altre zone della città niente mercato e cimitero chiuso nel fine settimana. Questo pomeriggio la nuova ordinanza varata dal primo cittadino del capologo Sannita che va ad implementare le precedenti disposizioni stabilendo che da domani fino al 3 dicembre saranno chiusi al pubblico dal venerdì alla domenica nonché nei giorni festivi e prefestivi dalle 18 alle 22 numerose strade e piazze cittadine, tra cui oltre al centralissimo Corso Garibaldi anche le relative traverse e le aree circostanti l'arco di Traiano. Resta confermata però la possibilità di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Inoltre viene stabilito che sulle panchine dell'intero territorio cittadino potranno prendere posto due persone per volta sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale, mentre la domenica e nei giorni festivi viene interdetto l'accesso dei visitatori al cemitero comunale, sospeso inoltre lo svolgimento del mercato regionale del sabato. Misura quest'ultima che il sindaco Mastella ha precisato restere in vigore finché non verrà prontato un piano che preveda la perimetrazione dell'area con un unico varco d'accesso ed un unico varco d'uscita in modo da evitare i possibili assembramenti e contingentare gli ingressi.